Il sindaco di Realmonte, Piero Puccio, ha ricevuto presso il Palazzo Civico l'allenatore del Catania ed ex calciatore della Sampdoria, Roma, e della nostra nazionale di calcio, Vincenzo Montella, al quale ha donato un piatto in ceramica raffigurante lo stemma del comune di Realmonte. Approfittando della partita del suo Catania allo stadio a Seneto di Agrigento, l'allenatore Montella, accompagnato dal sindaco Puccio, ha visitato la Scala dei Turchi e parte della costa, dove ha perfezionato l'acquisto di una villetta in zona. Come Montella, anche tanti altri personaggi importanti del mondo dello spettacolo stanno investendo, acquistando proprietà nella città della Scala dei Turchi.